OptiPobba è venuto qua, che prima mangiava le banane, adesso gioca titolare della Lazio. La gaff di Carlo Tavecchio diventa un videogioco per iPhone e smartphone Android. Protagonista dell'app, parza negli store, è OptiPobba, il calciatore extracomunitario di fantasia citato dal candidato alla presidenza della FIGICI. OptiPobba, che dà anche il nome al gioco, vuole diventare un calciatore di fama internazionale. Per poter raggiungere il difficile obiettivo avrà bisogno di un'alimentazione corretta, che dovrà basarsi sul potassio contenuto nelle banane. In suo aiuto arriva un anziano signore, dalle sembianze di Tavecchio, che le raccoglierà per lui. Nei giorni scorsi il presidente della Lega Nazionale di Lettanti ha dato vita a polemiche per una sua frase sui calciatori extracomunitari, colpevoli, secondo Tavecchio, di portare poca professionalità nel calcio italiano e, nonostante ciò, di essere titolari nella massima serie quando invece nel loro paese mangiavano le banane. Una battuta finita nel mirino anche della FIFA e della UEFA, da sempre impegnate nella lotta al razzismo nel mondo del pallone, che hanno chiesto l'apertura di un'inchiesta per verificare se si trattasse di contenuti razzisti.